Per la riduzione del numero dei vaccini Pfizer e Moderna, circa 40% le dosi in meno che arriveranno, nel mese di luglio si proseguirà la campagna vaccinale solo con la somministrazione delle seconde dosi nel salernitano. A dirlo è il referente per l'emergenza Covid dell'Asela di Salerno Arcangelo Saggese Tozzi. 200.000 le somministrazioni previste che porteranno ad un'immunizzazione totale di oltre il 50% della popolazione salernitana con questo e con i corretti comportamenti, dice Tozzi, riusciremo a creare una barriera anche alla diffusione delle varianti. La malattia non è scomparsa, la malattia è ancora tra noi. A volte si presenta in questi aspetti anche inquietanti queste varianti, non tutte le varianti sono peggiori, a volte possono esserci anche varianti migliorativi nel senso di caduta sulla popolazione ma la capacità di sostituirsi nella circolazione del virus della popolazione virale, per cui non dobbiamo avere paura delle varianti ma dobbiamo avere accortezza nella gestione anche perché se facciamo in questo modo ci sarà meno occasione di varianti, meno occasioni che si creino varianti. Quello che preoccupa però in questo momento i virologi è l'impennata di casi per la variante Delta e Delta Plus che purtroppo sostengono ci sarà. Siamo solo indietro rispetto all'Inghilterra ma il colpo di coda arriverà. Se siamo fortunati, sperabilmente, i casi gravi non cresceranno proporzionalmente al contagio. Lo dice Fabrizio Prejasco, virologo all'Università Statale di Milano, direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano, dove sta conducendo uno studio sugli anticorpi monoclonali e presidente dei volontari delle ambulanze dell'Empas. Le varianti fino ad ora individuate sono ormai 700, alcune hanno minime differenze ma quelle preoccupanti sono quattro, altre sono sotto osservazione e la variante indiana, la Delta, che mescolata a quella sudafricana è diventata anche Delta Plus e più contagiosa e un po' più cattivella.